Siamo venuti in questo posto, il posto è quello in cui stiamo andando adesso, il cavù è bellissimo come posto, c'erano solo escort, c'erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato tantissimo Tanto che, la presenza dei poveri, la cosa più bella è stato che ieri nello stesso orario mi hanno regato il mio Porsche Ah questa cosa racconta, ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare l'inferno Non ha limiti, allora ragazzi, se voi siete gelosi, sicuramente l'ha fatto un ricco o un povero? Ma no, un comodista con la bici di merda di Torino, che poi è una città di merda, guardatemi, io non verrò e non vivrò mai a Torino Io non è che vivo, io in questo momento sto soggiornando, perché Torino è la città più di merda del mondo Cioè, è veramente una città povera, ha istoratori e non trecari, c'è, è veramente il concetto e lo dico anche contro i miei interessi Perché i miei interessi sono quelli del vino, è veramente imbarazzante Se volete venire a mangiare male e bere male, venite a Torino, ma dai, è imbarazzante, ma cosa fate? Ma svegliatevi, fate i 70 chilometri in più, siete a Milano, già nella cintura, spendete 4 euro in più al bicchiere E vivete meglio, svegliatevi, STPT, sintonizzati per favore